Sura cinquantacinquesima. Il compassionevole ha insegnato il Corano, ha creato l'uomo e gli ha insegnato ad esprimersi. Il sole e la luna si muovono secondo calcolo preciso e si prosternano le stelle e gli alberi. Ha elevato il cielo e ha eretto la bilancia affinché non frodiate nella bilancia. Stabilite il peso con equità e non falsate la bilancia. La terra la disposta per le creature. Vi crescono frutti e palme dalle spate protette e cereali nei loro involucri e piante aromatiche. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Creò l'uomo di argilla risonante come terraglia e i demoni da fiamma di un fuoco senza fumo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Il Signore dei due orienti e Signore dei due occidenti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Ha lasciato liberi mari affinché si incontrassero, ma fra loro vi è una barriera che non possono oltrepassare. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Da entrambi si estraggono la perla e il corallo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? A lui appartengono le navi, alte sul mare come colline. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Tutto quel che è sulla terra è destinato a perire. Solo rimarrà il volto del Tuo Signore, pieno di maestà e di magnificenza. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Lo invocano tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra. È ogni giorno in nuova opera. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Presto ci occuperemo di voi, o due pesi. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? O con sesso dei demoni e degli uomini, se potrete varcare i limiti dei cieli e della terra, fatelo. Non fuggirete senza un'autorità proveniente da Allah. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sarà inviata contro entrambi fiamma ardente e rame fuso e non sarete soccorsi. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Quando si fenderà il cielo e sarà come cuoio rossastro, quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In quel giorno, né gli uomini né i demoni saranno interrogati sui loro peccati. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Gli empi saranno riconosciuti dei loro segni e afferrati per il ciuffo e per i piedi. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sarà detto loro, ecco l'inferno che i colpevoli negavano. Vagheranno tra esso e il magma ribollente. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Per chi avrà temuto di presentarsi al cospetto del suo Signore, ci saranno due giardini. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Di fresche fronde. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi, due specie di ogni frutto. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Saranno appoggiati i loro ospiti su divani rivestiti internamente di broccato, e i frutti dei due giardini saranno portata di mano. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Vi saranno colà quelle dagli sguardi casti, mai toccate da uomini o da demoni. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Saranno simili a rubino e corallo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Qual'altro compenso del bene, se non il bene? Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E ci saranno altri due giardini oltre a quelli. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E entrambi di un verde scurissimo. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi due sorgenti sgorganti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? In entrambi frutti, palme e melograni. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E fanciulle pie e belle. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? E fanciulle dei grandi occhi neri ritirate nelle loro tende. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Che nessun uomo o demone mai han toccato. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Saranno appoggiati su verdi cuscini e meravigliosi tappeti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? Sia benedetto il nome del tuo Signore, colmo di maestà e di magnificenza. Sura cinquantaseiesima Quando accadrà l'evento, la cui venuta nessuno potrà negare, abbasserà qualcuno e altri innalzerà. Quando la Terra sarà agitata da una scossa e le montagne sbriciolate saranno polvere dispersa, sarete allora divisi in tre gruppi. I compagni della destra. E chi sono i compagni della destra? I compagni della sinistra. E chi sono i compagni della sinistra? I primi? Sono davvero i primi. Saranno iravvicinati ad Allah, nei giardini delle delizie. Molti tra gli antichi, pochi tra i recenti. Su divani rivestiti d'oro, sdraiati gli uni di fronte agli altri. Vagheranno tra loro fanciulli di eterna giovinezza, recanti coppe, brocche e calici di bevanda sorgiva, che non darà mal di testa né ebbrezza. E i frutti che sceglieranno e le carni d'uccello che desidereranno. E ci saranno colà le fanciulle dei grandi occhi neri, simili a perle nascoste, compenso per quel che avranno fatto. Colà non sentiranno né vaniloqui né uscenità, ma solo pace. pace. E i compagni della destra? Chi sono i compagni della destra? Saranno tra i loti senza spine e banani dai caschi ben colmi, tra ombra costante e acqua corrente, e frutti abbondanti, inesauribili e non proibiti. Su letti elevati. Le abbiamo create perfettamente, le abbiamo fatte vergini, amabili e coetanee per i compagni della destra. Molti tra gli antichi e molti tra gli ultimi venuti. E i compagni della sinistra? Chi sono i compagni della sinistra? Saranno esposti a un vento bruciante, all'acqua bollente, all'ombra di un fumo nero, non fresca, non piacevole. Già furono genti agiate e persistevano nel grande peccato e dicevano, dopo che saremo morti e ridotti in polvere ed ossa, saremo forse resuscitati? E così pure i nostri avi? D. In verità, sia i primi che gli ultimi saranno riuniti nel convegno del giorno stabilito. Quindi in verità, voi traviati, voi negatori, mangerete dall'albero zaccum, ve ne riempirete il ventre e ci berrete sopra acqua bollente, berrete come cammelli morenti di sete. Ecco cosa sarà offerto loro nel giorno del giudizio. Siamo noi che vi abbiamo creato. Perché non prestate fede? Non riflettete su quello che eiaculate. Siete forse voi a crearlo o siamo noi il creatore? Abbiamo decretato per voi la morte e non potremo essere sopravvanzati nel sostituirvi con altri simili a voi e nel farvi rinascere in forme che ancora non conoscete. Già conoscete la prima creazione. Perché non ve ne ricordate? Non riflettete su quello che coltivate. Siete voi a seminare o siamo noi seminatori? Certamente se volessimo ne faremmo paglia secca e allora stupireste e direste siamo berati di debiti, del tutto diseredati. Non riflettete sull'acqua che bevete. Siete forse voi a farla scendere dalla nuvola o siamo noi che la facciamo scendere? Se volessimo la renderemmo salmastra. Perché mai non siete riconoscenti? Non riflettete sul fuoco che ottenete sfragando. Siete stati voi a far crescere l'albero che lo alimenta o siamo stati noi? Ne abbiamo fatto un monito e un'utilità per i viaggiatori del deserto. Glorifica dunque il nome del tuo Signore, il Supremo. Lo giuro per il declino delle stelle. E questo è giuramento solenne, se lo sapeste. Che questo è in verità un Corano nobilissimo, contenuto in un libro custodito che solo i puri toccano. È una rivelazione del Signore dei Mondi. Di questo discorso vorreste sospettare? La vostra riconoscenza sarà attacciarlo di menzogna? Perché mai, quando l'anima risale alla gola sotto i vostri occhi e noi gli siamo più vicini, ma non ve ne accorgete? Perché mai, se non dovete essere giudicati e se siete sinceri, non la ricondurrete? Se il morente fa parte dei ravvicinati ad Allah, avrà riposo, profumi e un giardino di delizie. Se è stato uno dei compagni della destra, gli sarà detto pace da parte dei compagni della destra. Ma se è stato uno di quelli che tacciavano di menzogna e che si erano traviati, sarà nell'acqua bollente e precipitato nella fornace. Questa è la certezza assoluta. Rendi dunque gloria al nome del tuo Signore, il Supremo. Sura cinquantasettesima. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e nella terra. Egli è l'Eccelso, il saggio. Appartiene a Lui la sovranità dei cieli e della terra, da vita e da morte. Egli è l'onnipotente. Egli è il primo e l'ultimo, il palese e l'occulto. Egli è l'onniscente. Egli è colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra, poi si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che penetra nella terra e ciò che ne esce, quel che scende dal cielo e quel che vi ascende. Egli è con voi ovunque voi siate. Allah osserva ciò che fate. Appartiene a Lui la sovranità dei cieli e della terra. Ad Allah tutte le cose saranno ricondotte. Fa penetrare la notte nel giorno e il giorno nella notte e conosce perfettamente quel che nascondono i petti. Credete in Allah e nel suo messaggero e date una parte di ciò di cui Allah vi ha fatto vicari. Per coloro che credono e saranno generosi, ci sarà ricompensa grande. Perché mai non credete in Allah, nonostante che il messaggero vi esorti a credere nel vostro Signore. Egli ha accettato il vostro patto. Rispettatelo se siete credenti. Egli è colui che ha fatto scendere sul suo servo segni evidenti per trarvi dalle tenebre alla luce. In verità Allah è dolce e misericordioso nei vostri confronti. Perché non siete generosi per la causa di Allah, quando ad Allah appartiene l'eredità dei cieli e della terra? Non sono uguali coloro di voi che sono stati generosi e hanno combattuto prima della vittoria. Essi godranno di un livello più alto e quelli che saranno generosi e combatteranno dopo. Comunque, a ciascuno di loro Allah ha promesso il meglio. Allah è ben informato di quello che fate. Quanto a chi fa da Allah un prestito bello, egli glielo raddoppia e gli concederà generosa ricompensa. Un giorno vedrà i credenti e le credenti circondati dalla loro luce. Oggi vi è data la lieta novella di giardini nei quali scorrono i ruscelli, dove rimarrete in perpetuo. Questo è davvero l'immenso successo. Il giorno in cui gli ipocriti e le ipocrite diranno ai credenti, aspettateci che possiamo attingere della vostra luce. Sarà risposto loro, tornate indietro a cercare la luce. Fra di loro sarà poi eretta una muraglia dotata di una porta. Al suo interno la misericordia, all'esterno, di fronte, il castigo. Non eravamo con voi? Grideranno. Sì, risponderanno, ma seduceste voi stessi, indugiaste e dubitaste e vi lasciaste ingannare dalle vostre passioni finché non si realizzò il decreto di Allah. Vi ingannò a proposito di Allah, l'ingannatore. Quest'oggi non sarà accettato riscatto né da voi né da coloro che non credettero. Vostro rifugio sarà il fuoco. Questo è il vostro inseparabile compagno. Qual triste rifugio! Non è forse giunto per i credenti il momento in cui rendere umili i loro cuori nel ricordo di Allah e nella verità che è stata rivelata, e di differenziarsi da quelli che ricevettero la scrittura in precedenza e che furono tollerati a lungo da Allah? I loro cuori si indurirono e molti di loro divennero perversi. Sappiate che Allah ravviva la terra morta. In vero vi abbiamo esplicitato i segni affinché riflettiate. Coloro che fanno la carità, uomini o donne, concedono un bel prestito ad Allah. Lo riscuoteranno raddoppiato e avranno generoso compenso. Coloro che credono in Allah e nei suoi messaggeri, essi sono i veridici, i testimoni presso Allah. Avranno la loro ricompensa e la loro luce. Coloro che invece non credono e tacciano di menzogne i nostri segni, questi sono i compagni della fornace. Sappiate che questa vita non è altro che gioco e svago, apparenza e reciproca iattanza, vana contesa di beni e progenie. Essa è come una pioggia, la vegetazione che suscita con forti seminatori, poi appassisce. La vedi ingiallire e quindi diventa stoppia. Nell'altra vita c'è un severo castigo ma anche perdono e compiacimento da parte di Allah. La vita terrena non è altro che godimento effimero. Affrettatevi al perdono del vostro Signore e al giardino vasto come il cielo e la terra, preparato per coloro che credono in Allah e nei suoi messaggeri. questa è la grazia di Allah che gli dà chi vuole. Allah possiede immensa grazia. Non sopravviene sventura né alla terra né a voi stessi che già non sia scritta in un libro prima ancora che noi la produciamo. In verità ciò è facile per Allah. E ciò affinché non abbiate a disperarvi per quello che vi sfugge e non esultiate per ciò che vi è stato concesso. Allah non ama i superbi vanagloriosi e gli avari che impongono agli altri l'avarizia. Quanto a chi volge le spalle sappia che Allah basta se stesso, è il degno di lode. In vero inviamo i nostri messaggeri con prove inequivocabili e facemmo scendere con loro la scrittura e la bilancia affinché gli uomini osservassero l'equità. Facemmo scendere il ferro, strumento terribile e utile per gli uomini affinché Allah riconosca chi sostiene lui e i suoi messaggeri in ciò che è invisibile. Allah è forte, eccelso. In vero inviammo Noè e Abramo e concedemmo ai loro discendenti la profezia e la scrittura. Alcuni di loro furono ben diretti ma la maggior parte fu empia. Mandammo poi sulle loro orme i nostri messaggeri e mandammo Gesù figlio di Maria a quale demmo il Vangelo. Mettemmo nel cuore di coloro che lo seguirono dolcezza e compassione. Il monachesimo invece lo istituirono da loro stessi soltanto per ricercare il compiacimento di Allah. Non fumo noi a prescriverlo. Ma non lo rispettarono come avrebbero dovuto. Demmo la loro ricompensa a quanti fra loro credettero ma molti altri furono empi. O credenti, temete Allah e credete nel suo messaggero affinché Allah vi dia due parti della sua misericordia. Vi concedo una luce nella quale camminerete e vi perdoni. Allah è perdonatore misericordioso. La gente della scrittura sappia che non ha alcun potere sulla grazia di Allah. In verità la grazia è nella mano di Allah ed egli la concede a chi vuole. Allah possiede immensa grazia. Sura 58 Allah ha udito il discorso di colei che discuteva con te a proposito del suo sposo e si lamentava davanti ad Allah. Allah ascoltava il vostro colloquio. Allah è audiente e vede con chiarezza. Quanti fra voi che ripudiano le loro mogli dicendo «sì per me come la schiena di mia madre» sappiano che esse non sono affatto le loro madri. Le loro madri sono quelle che li hanno partoriti. In verità proferiscono qualcosa di riprovevole e una menzogna. Tuttavia Allah è indulgente, perdonatore. coloro che paragonano le loro mogli alla schiena delle loro madri e poi si pentono di quello che hanno detto, liberino uno schiavo prima di riprendere i rapporti coniugali. Siete esortati a far ciò. Allah è ben informato di quello che fate. E colui che non ne abbia i mezzi, digiuni allora per due mesi consecutivi prima di riprendere i rapporti coniugali. E chi non ne abbia la possibilità, nutra sessanta poveri. Ciò vi ha imposto affinché crediate in Allah e nel suo inviato. Questi sono i limiti di Allah. I miscredenti avranno un doloroso castigo. In verità coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato saranno sgominati come lo furono coloro che li precedettero. Già facemmo scendere prove inequivocabili. I miscredenti subiranno una vilente castigo nel giorno in cui Allah tutti li risusciterà e li informerà delle loro opere. Allah le ha contate, mentre essi le hanno dimenticate. Allah è testimone di ogni cosa. Non vedi che Allah conosce quel che è nei cieli e sulla terra? Non c'è conciliabolo a tre, in cui egli non sia il quarto, né a cinque, in cui non sia il sesto. Siano in più o in meno, egli è con loro ovunque si trovino. Poi nel giorno della ressurrezione li porrà di fronte a quello che avranno fatto. In verità Allah conosce ogni cosa. Non hai visto coloro ai quali sono stati vietati i conciliaboli? Hanno ricominciato a fare quel che era stato loro vietato e tengono conciliaboli peccaminosi, ostili e di disobbedienza nei confronti dell'inviato. Quando vengono a te, ti salutano in un modo in cui Allah non ti ha salutato e dicono in cuor loro, perché Allah non ci castiga per quel che diciamo? Basterà loro l'inferno in cui saranno precipitati, qual tristo avvenire. O credenti, non siano peccaminosi, ostili e di disobbedienza nei confronti dell'inviato i vostri colloqui privati, ma nel bene e nel timor di Allah. Temete Allah, davanti al quale sarete radunati. Il conciliabolo non è altro che opera di Satana per affliggere i credenti. Ma in nulla può nuocere loro senza il permesso di Allah. Confidino dunque in Allah i credenti. O credenti, quando vi si dice, fate spazio agli altri nelle assemblee, allora fatelo. Allah vi farà spazio in paradiso. E quando vi si dice, alzatevi, fatelo. Allah innalzerà il livello di coloro che credono e che hanno ricevuto la scienza. Allah è ben informato di quel che fate. O credenti, quando desiderate un incontro privato con il messaggero, fate precedere il vostro incontro da un'elemosina. È meglio per voi e più puro. Se però non avete mezzi, in verità Allah è perdonatore, misericordioso. Forse temete di cadere in miseria se farete precedere un'elemosina ai vostri incontri privati con l'inviato? Se non lo avrete fatto e che Allah accolga il vostro pentimento, eseguite l'orazione, versate la decima e obbedite ad Allah e al suo inviato. Allah è ben informato di quello che fate. Non hai visto coloro che si sono alleati con quelli con i quali Allah è adirato? Non sono né dei vostri né dei loro e giurano il falso sapendo di farlo. Allah ha preparato per loro un severo castigo. È malvagio quel che hanno commesso. Facendosi scudo dei loro giuramenti frappongono ostacoli sulla via di Allah. Avranno un avvilente castigo. I loro beni e la loro progenie non gioveranno loro in alcun modo contro Allah. Sono i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo. Il giorno in cui Allah li resusciterà tutti, giureranno davanti a lui come giuravano davanti a voi, credendo di basarsi su qualcosa di vero. Non sono forse loro i bugiardi? Satana si è impadronito di loro al punto di far sì che dimenticassero il ricordo di Allah. Sono il partito di Satana e il partito di Satana in verità è perdente. In verità coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato saranno fra i più umiliati. Allah ha scritto «In vero vincerò, io e i miei messaggeri». In verità Allah è forte, eccelso. Non troverai alcuno tra la gente che crede in Allah e nell'ultimo giorno che sia amico di coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato, fossero anche i loro padri, i loro figli, i loro fratelli o appartenessero al loro clan. Egli ha impresso la fede nei loro cuori e li ha rafforzati con uno spirito proveniente da lui. Li farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Allah si compiace di loro e loro si compiacciono di lui. Essi sono il partito di Allah. Ebbene, il partito di Allah non è forse quello di coloro che trionferanno? Sura 59. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e ciò che è sulla terra. Egli è eccelso, saggio. Egli è colui che ha fatto uscire dalle loro dimore in occasione del primo esodo quelli fra la gente della scrittura che erano miscredenti. Voi non pensavate che sarebbero usciti e loro credevano che le loro fortezze li avrebbero difesi contro Allah. Ma Allah li raggiunse da dove non se lo aspettavano e gettò il terrore nei loro cuori. Demolirono le loro case con le loro mani e con il concorso delle mani dei credenti. Traetene dunque una lezione, o voi che avete occhi per vedere. E se Allah non avesse decretato il loro bando, li avrebbe certamente castigati in questa vita. Nell'altra vita avranno il castigo del fuoco, poiché si opposero ad Allah e al suo inviato. E quanto a chi si oppone ad Allah? In vero Allah è severo nel castigo. Tutte le palme che abbatteste e quelle che lasciaste ritte sulle loro radici fu con il permesso di Allah, affinché gli copra gli empi di ignominia. Il bottino che Allah concesse spetta al suo inviato. Non faceste correre per conquistarlo né cavalli né cammelli. Allah fa trionfare i inviati su chi vuole e Allah è onnipotente. Il bottino che Allah concesse al suo inviato sugli abitanti delle città appartiene ad Allah e al suo inviato, ai suoi familiari, agli orfani, ai poveri e al viandante diseredato così che non sia diviso tra i ricchi fra di voi. Prendete quello che il messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega e temete Allah. In verità Allah è severo nel castigo. Appartiene inoltre agli emigrati bisognosi che sono stati scacciati dalle loro case e dai loro beni poiché bramavano la grazia e il compiacimento di Allah, ausiliari di Allah e del suo inviato. Essi sono i sinceri. E appartiene a quanti prima di loro abitavano il paese e vivevano nella fede, che amano quelli che emigrarono presso di loro e non provano in cuore invidia alcuna per ciò che hanno ricevuto e che li preferiscono a loro stessi, nonostante siano nel bisogno. Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo. Coloro che verranno dopo di loro diranno, Signore, perdona a noi i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti. Signor nostro, tu sei dolce e misericordioso. Non hai visto gli ipocriti mentre dicevano ai loro alleati miscredenti fra la gente della scrittura, se sarete scacciati, verremo con voi e rifiuteremo di obbedire a chiunque contro di voi? Se sarete attaccati, vi porteremo soccorso? Allah è testimone che in verità sono bugiardi. Se verranno scacciati, essi non partiranno con loro, mentre se saranno attaccati, non li soccorreranno. E quando anche portassero loro soccorso, certamente volgerebbero le spalle e quindi non li aiuterebbero affatto. Voi mettete nei loro cuori più terrore che Allah stesso, poiché in vero è gente che non capisce. Vi combatteranno uniti solo dalle loro fortezze o dietro alle mura. Grande lacrimonia che regna tra loro. Li ritieni uniti. Invece i loro cuori sono discordi. È gente che non ragiona. Sono simili a coloro che di poco li precedettero. Subirono le conseguenze del loro comportamento. Riceveranno doloroso castigo. Furono traditi come quando Satana disse all'uomo, non credere. Ma quando questo fu miscredente gli disse, ti sconfesso, io temo Allah, il Signore dei mondi. La fine di entrambi sarà nel fuoco in cui rimarranno in perpetuo. Ecco il compenso degli ingiusti. O voi che credete, temete Allah e che ognuno rifletta su ciò che avrà preparato per l'indomani. Temete Allah. In verità Allah è ben informato di quello che fate. Non siate come coloro che dimenticano Allah e cui Allah fece dimenticare se stessi. Questi sono i malvagi. Non saranno uguali i compagni del fuoco e i compagni del giardino. I compagni del giardino avranno la beatitudine. Se avessimo fatto scendere questo Corano su una montagna, l'avresti visto umiliarsi e spaccarsi per il timor di Allah. Ecco gli esempi che proponiamo agli uomini affinché riflettano. Egli è Allah, colui all'infuori del quale non c'è altro Dio, il Conoscitore dell'invisibile e del palese. Egli è il Compassionevole, il Misericordioso. Egli è Allah, colui all'infuori del quale non c'è altro Dio, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, l'Eccelso, colui che costringe al suo volere, colui che è cosciente della sua grandezza. Gloria ad Allah, ben al di là di quanto gli associano. Egli è Allah, il Creatore, colui che dà inizio a tutte le cose, colui che dà forma a tutte le cose. A Lui appartengono i nomi più belli. Tutto ciò che è nei cieli e sulla terra rende gloria a Lui. Egli è l'Eccelso, il Saggio. Sura Sessantesima O credenti, non prendetevi per alleati il mio nemico e il vostro, dimostrando loro amicizia, mentre essi non hanno creduto alla verità che vi è giunta, e hanno scacciato l'inviato e voi stessi, solo perché credete in Allah, vostro Signore. Se siete usciti in combattimento per la mia causa bramando il mio compiacimento, pensate di poter mantenere segreta la vostra relazione con loro, mentre io conosco meglio di chiunque altro quel che celate e quel che palesate? Chi di voi agisse in questo modo si allontanerebbe dalla retta via. Se vi incontrano in qualche luogo, saranno vostri nemici, vi aggrediranno con le loro mani e le loro lingue e si augureranno che diveniate miscredenti. I vostri parenti e vostri figli non vi saranno utili e nel giorno della Ressurrezione Allah deciderà tra di voi. Allah osserva quello che fate. Avete avuto un bel esempio in Abramo e in coloro che erano con lui quando dissero alla loro gente Noi ci dissociamo da voi e da quel che adorate all'infuori di Allah. Vi rinneghiamo. Tra noi e voi sono sorti nemicizia e odio che continueranno ininterrotti finché non crederete in Allah, l'unico. Eccezione fatta per quanto Abramo disse a suo padre Implorerò perdono per te anche se è certo che non ho alcun potere in tuo favore presso Allah. Signore A te ci affidiamo A te ci volgiamo pentiti E verso di te è il divenire Signore Non fare di noi una tentazione per i miscredenti In vero avete avuto in loro un bel esempio per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno Quanto a chi invece volge le spalle Allah basta a se stesso Ed è il degno di lode Forse Allah stabilirà amicizia tra voi e quanti fra di loro considerate nemici Allah è onnipotente E Allah è perdonatore misericordioso Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case poiché Allah ama coloro che si comportano con equità Allah vi proibisce soltanto di essere alleati di coloro che vi hanno combattuto per la vostra religione che vi hanno scacciato dalle vostre case o che hanno contribuito alla vostra espulsione Coloro che li prendono per alleati sono essi gli ingiusti O voi che credete quando giungono a voi le credenti che sono emigrate esaminatele Allah ben conosce la loro fede Se le riconoscerete credenti non rimandatele ai miscredenti esse non sono lecite per loro né essi sono loro leciti e restituite loro ciò che avranno versato Non vi sarà colpa alcuna se le sposerete versando loro il dono nuziale Non mantenete legami coniugali con le miscredenti Rivendicate quello che avete versato ed essi rivendichino quel che hanno versato Questo è il giudizio di Allah con il quale giudica fra voi E Allah è sapiente Saggio Se qualcuna delle vostre spose fugge verso i miscredenti Quando avete la meglio su di loro date a quelli le cui spose sono fuggite quanto avevano versato Temete Allah nel quale credete O profeta Quando vengono a te le credenti a stringere il patto giurando che non associeranno ad Allah alcunché che non ruberanno che non fornicheranno che non uccideranno i loro figli che non commetteranno infamie con le loro mani o con i loro piedi e che non ti disobbediranno in quel che è reputato conveniente stringi il patto con loro e implora Allah di perdonarle Allah è perdonatore misericordioso O credenti non prendetevi per alleati gente contro la quale Allah è adirato e che non hanno la speranza dell'altra vita come miscredenti che disperano di rivedere la gente delle tombe Sura 61 Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra Egli è l'eccelso il saggio O credenti perché dite quel che non fate? Presso Allah è grandemente odioso che diciate quel che non fate In verità Allah ama coloro che combattono per la sua causa in ranghi serrati come fossero un solido edificio Ricorda quando Mosè disse al suo popolo O popol mio perché mi tormentate nonostante sappiate che sono veramente il messaggero di Allah a voi inviato Quando poi deviarono Allah fece deviare i loro cuori Allah non guida la gente malvagia E quando Gesù figlio di Maria disse O figli di Israele io sono veramente un messaggero di Allah a voi inviato per confermare la Torah che mi ha preceduto e per annunciarvi un messaggero che verrà dopo di me il cui nome sarà Ahmad Ma quando questi giunse loro con le prove incontestabili dissero Questa è magia evidente Chi è più iniquo di colui che inventa menzogne contro Allah nonostante venga chiamato all'Islam Allah non guida gli ingiusti Vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche ma Allah completerà la sua luce a dispetto dei miscredenti Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità affinché essa prevalga su ogni religione a dispetto degli associatori O voi che credete volete che vi indichi una transazione che vi salverà da un doloroso castigo? Credete in Allah e nel suo inviato e lottate con i vostri beni e le vostre persone sulla via di Allah ciò è meglio per voi se lo sapeste Allah perdonerà i vostri peccati e vi farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli e nelle piacevoli dimore dei giardini di Eden ecco il più grande successo e vi darà un'altra cosa che avrete desiderato l'aiuto di Allah e una rapida vittoria Danne o Muhammad la lieta novella ai credenti O credenti siate gli ausiliari di Allah così come Gesù figlio di Maria chiedeva agli apostoli chi sono i miei ausiliari nella causa di Allah risposero gli apostoli noi siamo gli ausiliari di Allah una parte dei figli di Israele credette mentre un'altra parte non credette aiutammo coloro che credettero contro il loro nemico ed essi prevalsero Sura 62 glorifica Allah ciò che ne cede sulla terra il re il santo l'eccelso il saggio egli è colui che ha inviato tra gli letterati un messaggero della loro gente che recita i suoi versetti li purifica e insegna loro il libro e la saggezza anche se in precedenza erano in errore evidente e ad altri che ancora non li hanno raggiunti nella fede egli è l'eccelso il saggio questa è la grazia di Allah egli la concede a chi vuole Allah è il detentore della grazia immensa coloro cui fu affidata la Torah e che non la osservarono assomigliano all'asino che porta i libri quanto è detestabile la similitudine di coloro che tacciano di menzogna i segni di Allah Allah non guida gli ingiusti di o voi che praticate il giudaismo se pretendete di essere gli alleati di Allah ad esclusione degli altri uomini auguratevi la morte se siete veritieri giammai se l'augureranno a causa di quel che hanno commesso le loro mani Allah ben conosce gli empi di loro o Muhammad in vero la morte che fuggite vi verrà incontro quindi sarete ricondotti a colui che conosce l'invisibile e il palese e vi informerà a proposito di quel che avrete fatto o credenti quando viene fatto l'annuncio per l'orazione del venerdì accorrete al ricordo di Allah e lasciate ogni traffico ciò è meglio per voi se lo sapeste quando poi l'orazione è conclusa fargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah e molto ricordate Allah affinché possiate avere successo quando vedono un commercio o un divertimento si precipitano e ti lasciano ritto di quel che è presso Allah è migliore del divertimento del commercio e Allah è il migliore dei sostentatori Sura 63 Quando vengono a te gli ipocriti dicono attestiamo che sei veramente il messaggero di Allah ma Allah attesta che tu sei il suo messaggero e attesta Allah che gli ipocriti sono bugiardi si fanno scudo dei loro giuramenti e hanno allontanato altri dalla via di Allah quant'è perverso quello che fanno e questo perché prima credettero poi divennero increduli sul loro di cui si è li vedi sei ammirato della loro prestanza se parlano ascolti le loro parole sono sono come tronchi appoggiati credono che ogni grido sia contro di loro sono essi il nemico sta in guardia gli annienti Allah quanto si sono traviati e quando si dice loro venite il messaggero di Allah implorerà il perdono per voi voltano la testa e li vedi allontanarsi pieni di superbia per loro è la stessa cosa che tu implori perdono per loro o che non lo implori Allah non li perdonerà mai in verità Allah non guida gli empi essi sono coloro che dicono non date nulla a coloro che seguono il messaggero di Allah affinché si disperdano appartengono ad Allah i tesori dei cieli della terra ma gli ipocriti non lo capiscono dicono se ritorniamo a Medina il più potente scaccerà il più debole la potenza appartiene ad Allah al suo messaggero e ai credenti ma gli ipocriti non lo sanno o credenti non vi distraggano dal ricordo di Allah i vostri beni e i vostri figli quelli che faranno ciò saranno i perdenti siate generosi di quello che noi vi abbiamo concesso prima che giunga uno di voi la morte ed egli dica signore se tu mi dessi una breve dilazione farei l'emosina e sarei fra i devoti ma Allah non concede dilazione a nessuno che sia giunto al termine Allah è ben informato a proposito a proposito di quello che fate sora sessantaquattresima glorifica Allah ciò che è necele sulla terra sua la sovranità sua la lode egli è onnipotente egli è colui che vi ha creati tra di voi vi è chi non crede e chi crede e Allah osserva quello che fate egli ha creato i cieli e la terra in tutta verità e vi ha plasmati in una forma armoniosa verso di lui è il divenire egli conosce quel che è nei cieli e sulla terra e conosce quello che celate e quello che palesate Allah ben conosce quello che c'è nei petti non vi è giunta notizia di coloro che furono miscredenti in passato gustarono le conseguenze della loro condotta e avranno doloroso castigo e ciò in quanto vennero ad essi con le prove i loro messaggeri ma dissero sarà un uomo a guidarci non credettero e voltarono le spalle ma Allah non ha bisogno di loro Allah basta a se stesso ed è il degno di lode coloro che non credono affermano che non saranno affatto resuscitati di invece sì per il mio signore sarete resuscitati quindi sarete informati di quel che avrete fatto ciò è facile per Allah credete dunque in Allah e nel suo messaggero e nella luce che abbiamo fatta scendere Allah è ben informato a proposito di quello che fate il giorno in cui sarete riuniti per il giorno del raduno sarà il giorno del reciproco inganno a chi avrà creduto in Allah e avrà compiuto il bene egli cancellerà i peccati e lo introdurrà nei giardini dove scorrono i ruscelli in cui rimarrà in perpetuo e per sempre ecco l'immenso successo coloro invece che non credono e tacciano di menzogne i nostri segni saranno i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo qual tristo avvenire nessuna sventura colpisce l'uomo senza il permesso di Allah Allah guida il cuore di chi crede in lui Allah è l'onnisciente obbedite dunque ad Allah e obbedite al messaggero se poi volgerete le spalle sappiate che al nostro messaggero incombe solo la trasmissione esplicita Allah non vedio all'infuori di lui confidino dunque in Allah i credenti o voi che credete nelle vostre spose e nei vostri figli c'è talvolta un nemico per voi state in guardia se dimenticherete lascerete cadere e perdonerete in verità Allah è perdonatore misericordioso i vostri beni e vostri figli non sono altro che tentazione mentre presso Allah c'è ricompensa immensa temete Allah per quello che potete ascoltate obbedite e siate generosi ciò è un bene per voi stessi coloro che si saranno preservati dalla loro stessa avidità saranno quelli che prospereranno se fate ad Allah un prestito bello egli ve lo raddoppierà e vi perdonerà Allah è riconoscente magnanimo conoscitore dell'invisibile e del palese l'eccelso il saggio Sura 65 O profeta quando ripudiate le vostre donne ripudiatele allo scadere del termine prescritto e contate bene il termine temete Allah vostro signore e non scacciatele dalle loro case ed esse non se ne vadano a meno che non abbiano commesso una provata indecenza ecco i termini di Allah chi oltrepassa i termini di Allah danneggia se stesso tu non sai forse in questo periodo Allah farà succedere qualcosa quando poi siano giunte al loro termine trattenetele convenientemente o separatevi da esse convenientemente richiedete la testimonianza di due dei vostri uomini retti che testimonino davanti ad Allah ecco a che cosa ha esortato chi crede in Allah e nell'ultimo giorno a chi teme Allah egli apre una via d'uscita e gli concede provvidenze da dove non ne attendeva Allah basta a chi confida in lui in verità Allah realizza i suoi intenti Allah ha stabilito una misura per ogni cosa se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non sperano più nel mestro il loro termine sia di tre mesi lo stesso valga per quelle che non hanno ancora il mestro quelle che sono incinte avranno per termine il parto stesso a chi teme Allah egli facilita i suoi intenti questo è l'ordine che Allah ha fatto scendere su di voi a chi teme Allah egli cancella i peccati e aumenta la sua ricompensa fatele abitare dove voi stessi abitate secondo i vostri mezzi non tormentatele mettendole in ristrettezze se sono incinte provvedete al loro mantenimento fino a che non abbiano partorito se allatteranno per voi date loro un compenso e accordatevi tra voi convenientemente se andrete incontro a difficoltà si ha un'altra ad allattare per voi l'agiato spenda della sua giatezza colui che ha scarse risorse spenda di quello che Allah gli ha concesso Allah non impone a nessuno se non in misura di ciò che egli ha concesso Allah farà seguire il benessere e il disagio quante città si mostrarono orgogliose di fronte all'ordine del loro signore e dei suoi messaggeri le costringemmo a un rendiconto rigoroso e le castigammo di un orribile castigo gustarono le conseguenze della loro condotta e l'esito della loro condotta fu la dannazione Allah ha preparato loro un severo castigo temete dunque Allah o dotati di intelletto voi che avete la fede in vero Allah ha fatto scendere su di voi un monito un messaggero che vi recita i versetti espliciti di Allah per trarre dalle tenebre alla luce coloro che credono e compiono il bene chi crede in Allah e compie il bene egli lo farà entrare nei giardini in cui scorrono i ruscelli dove rimarrà in perpetuo a costui Allah ha concesso buona provvidenza Allah è colui che ha creato sette cieli e altrettante terre scende il suo ordine tra di loro affinché sappiate che in verità Allah è onnipotente e che Allah abbraccia nella sua scienza ogni cosa Sura 66 o profeta perché cercando di compiacere le tue spose ti interdici quello che Allah ti ha permesso Allah è perdonatore misericordioso eppure Allah vi ha prescritto un modo per sciogliere i vostri giuramenti Allah è il vostro padrone egli è il sapiente il saggio quando il profeta confidò un segreto ad una delle sue spose e questa lo andò a riferire ad un'altra Allah lo informò ed egli ne confermò una parte tenendone nascosto un'altra quando le chiese conto della sua indiscrezione ella disse chi te ne ha dato notizia rispose il sapiente il ben informato me ne ha dato notizia se entrambe ritornerete ad Allah è segno che i vostri cuori si sono pentiti se invece vi sosterrete a vicenda contro il profeta sappiate allora che il suo padrone è Allah e che Gabriele e i devoti tra i credenti e gli angeli saranno il suo sostegno se vi ripudiasse certamente il suo signore vi sostituirebbe con delle spose migliori di voi sottomesse ad Allah credenti devote penitenti adoranti osservanti il digiuno già sposate in precedenza o vergini o credenti preservate voi stessi e le vostre famiglie da un fuoco il cui combustibile saranno uomini e pietre e sul quale vegliano angeli formidabili severi che non disobbediscono a ciò che Allah comanda loro e che eseguono quello che viene loro ordinato o miscredenti non chiedete scusa oggi sarete compensati solo per quel che avrete fatto o credenti pentitevi davanti ad Allah ad un pentimento sincero forse il vostro signore cancellerà i vostri peccati e vi introdurrà nei giardini in cui scorrono i ruscelli nel giorno in cui non imporrà umiliazione alcuna al profeta e a coloro che avranno creduto insieme con lui la loro luce correrà innanzi a loro e sulla loro destra ed essi diranno signore completa la nostra luce e perdonaci in verità tu sei l'onnipotente o profeta combatti i miscredenti e gli ipocriti e si severo nei loro confronti il loro asilo sarà l'inferno qual triste rifugio Allah ha proposto ai miscredenti l'esempio della moglie di Noè e della moglie di Lot entrambe sottostavano a due dei nostri servi uomini giusti entrambe li tradirono ed essi non poterano in alcun modo porle al riparo da Allah fu detto loro entrate entrambe nel fuoco insieme con coloro che vi entrano Allah ha proposto ai credenti l'esempio della moglie di Faraone quando invocò Signore costruisci mi vicino a te una casa nel giardino salvami da Faraone e dalle sue opere salvami dagli ingiusti e Maria figlia di Marran che conservò la sua verginità insufflammo in lei del nostro spirito attestò la veridicità delle parole del suo Signore e dei suoi libri e fu una delle devote Sura 67 Benedetto colui nella cui mano è la sovranità egli onnipotente colui che ha creato la morte e la vita per mettere alla prova chi di voi meglio opera egli è l'eccelso il perdonatore colui che ha creato sette cieli sovrapposti senza che tu veda alcun difetto nella creazione del compassionevole osserva vedi una qualche fenditura osserva ancora due volte il tuo sguardo ricadrà stanco e sfinito in vero a bellimmo di luminari al cielo più vicino e ne abbiamo fatto strumenti per lapidare i demoni per i quali abbiamo preparato la fiamma per coloro che non credono nel loro signore c'è il castigo dell'inferno qual tristo di venire quando vi sono precipitati ne sentono il fragore mentre ribolle manca poco a che scoppi di rabbia ogni volta che un gruppo vi è precipitato i suoi guardiani chiedono non vi è forse giunto un ammonitore risponderanno si ci è raggiunto un ammonitore ma noi lo tacciamo di menzogna e dicemmo Allah non ha fatto scendere alcunché voi siete in evidente errore e diranno se avessimo ascoltato compreso non saremmo tra i compagni della fiamma riconoscono il loro peccato che siano ridotti in polvere i compagni della fiamma coloro che invece temono il loro signore in ciò che è invisibile avranno perdono e ricompensa grande sia che nascondiate i vostri intenti o li palesiate egli ben conosce quello che contengono i petti non conoscerebbe ciò che egli stesso ha creato quando egli è il sottile il bene informato egli è colui che vi ha fatto rimissiva la terra percorretela in lungo e largo e mangiate della sua provvidenza verso di lui alla risurrezione siete forse sicuri che colui che sta nel cielo non vi faccia inghiottire dalla terra quando trema o siete sicuri che colui che sta nel cielo non scateni contro di voi un uragano conoscerete allora il mio avvertimento in vero coloro che li precedettero già tacciarono di menzogna quale fu la mia riprovazione non hanno visto sopra di loro gli uccelli spiegare ripiegare le ali non li sostiene altri che il compassionevole in verità egli osserva ogni cosa chi potrebbe costituire un esercito per voi e chi potrebbe soccorrervi all'infuori del compassionevole i miscredenti sono in preda all'inganno chi provvederà a voi se gli tratterrà la sua provvidenza no essi persistono nell'insolenza e nel rifiuto colui che cammina con il volto rivolto al suolo è forse meglio guidato di colui che si erge camminando sulla retta via di egli è colui che vi ha creati e vi ha dato l'udito gli occhi e i cuori quanto poco gli siete riconoscenti di egli è colui che vi ha sparsi sulla terra e verso di lui sarete riuniti dicono a quando questa promessa ditecelo se siete veridici di la conoscenza di ciò appartiene da Allah io non sono altro che un ammonitore esplicito quando la vedranno da vicino saranno stravolti i visi dei miscredenti e sarà detto loro ecco ciò che vi ostinavate a chiedere d cosa credete sia che Allah faccia perire me e quelli che sono con me sia che ci usi misericordia chi potrà proteggere i miscredenti da un doloroso castigo d egli è il compassionevole crediamo in lui e in lui confidiamo presto saprete chi è un errore evidente d cosa credete se la vostra acqua rientrasse nelle profondità della terra chi vi procurerebbe acqua sorgiva e a che è un errore Grazie a tutti.